Mi dica una cosa, lei si augurerebbe Draghi al Quirinale? No. No? No. Neanche se poi a quel punto potessero arrivare, perché non è detto che poi si costituisce un nuovo governo, un nuovo Presidente del Consiglio, per me non è così facile. E anche se dovessero arrivare alle elezioni anticipate... Il fatto che Draghi sia autorevole con un curriculum eccellente è fuori di dubbio. Le scelte passate del Draghi, Direttore Generale del Tesoro, ricordate anche come lo definì Cossiga, Presidente Merito, del Draghi Presidente, Governatore della Banca d'Italia, in merito al MPS, quelli sono sperperi di denaro pubblico, altro che il reddito di cittadinanza con tutti i limiti. E le scelte del Draghi Presidente della BCE, quella lettera di Tresce, tratto criticata addirittura dall'attuale Ministro del Lavoro, il quale disse mi sono vergognato di aver votato a favore del pareggio di bilancio in Costituzione. Ecco, tutte delle scelte politiche, sto parlando di politica, non di autorevolezza di bilancio, politiche di Draghi nel passato, non depongono il mio modo di vedere a suo favore, quindi non vorrei un privatizzatore feroce come Presidente della Repubblica. Ma chi vorrebbe lei come Presidente della Repubblica? Cioè non c'è un nome che oggi le piacerebbe particolarmente. A me Zagrelbeschi sarebbe una persona che stimo, lo è, ma ce ne sono tanti. Altra cosa che un pochino, mi permetto un suggerimento non richiesto ai miei ex colleghi, ma si è mai visto una forza politica che prende il 33%, quindi tre anni fa, stravince le elezioni, di fronte a partiti che straperdono le elezioni, a parte la Lega, il PD il risultato più basso della sua vita, che oggi si limita, rispetto alla corsa del Quirinale, alla partita del Quirinale, ad accettare o meno nomi proposti dai partiti che hanno perso tre anni fa. Io leggo, sono veri, no? Papabile, Amato, Casini, Dio ce ne scampi, Draghi, Berlusconi, perché poi c'è chi lavora oggi per Berlusconi, Dell'Utre ci sta lavorando, Gianni Letta ci sta lavorando. Renzi, per me ci sta lavorando, però, insomma, il personaggio è quello che è. Si è mai visto un movimento che non riesce oggi ad esprimere, pur avendo preso il 33% tre anni fa, dei candidati di sua area? Io non l'ho mai vista questa cosa.